Al Museo Casa Natale Salvatore Quasimodo è stata inaugurata la mostra del pittore Silvio Zambieri. Buonasera, sono Marinella, sono presidente dell'associazione Proserpina che gestisce la casa natale di Salvatore Quasimodo. Stasera ci troviamo qua ad inaugurare la mostra di Silvio Zambieri, un omaggio che questo pittore ha voluto fare a Salvatore Quasimodo in occasione del 50esimo anniversario della morte che accade il 14 giugno di quest'anno. Guardi, è un momento importante per la città perché nei festeggiamenti di quest'anno di Quasimodo una mostra di quadri di questo livello è veramente eccezionale per la città. Devo ringraziare per questo coloro che fanno vivere la presenza di Quasimodo a Modica attraverso il proprio museo, la propria casa e quindi che ogni giorno si sacrificano proprio ma non una questione sicuramente economica ma esclusivamente di passione per il bene di questa città e per il bene che hanno nei confronti anche di Quasimodo. Quindi devo veramente ringraziare l'artista che ha voluto mettere a disposizione i propri quadri, queste opere d'arte così belle anche qua a Modica e sono sicuro che tanti turisti li potranno apprezzare e potranno vedere quello che è veramente da questa città anche a livello culturale. Proprio questa settimana è una settimana ricchissima, la settimana di San Giorgio, poi parte già dopo domani anche forte libro con la presenza per quanto riguarda tutti questi libri, la processione di San Giorgio domenica, credo è un momento importante dove tanti turisti potranno ammirare questa città anche sul lato culturale. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.